Consiglio la Chef Academy a chi ha la mia stessa passione perché bisogna sempre inseguire i propri sogni e questa è la scuola giusta. Se come me anche tu hai una passione per la cucina o per la pasticceria ti consiglio vivamente di venire qui in Chef Academy perché non te ne pentirai. Per chi come me ama la pasticceria e cerca di crescere a livello professionale consiglierei molto la Chef Academy.